Buongiorno, questa mattina penso che siamo tutti quanti un po' allarmati perché fra lampi, i tuoni e il vento forte ovviamente qualche perturbazione ci è arrivata, è arrivata anche un po' di grandine e però come per fortuna da una parte e per sfortuna da un'altra ha smesso quasi tutto, praticamente alle 7 della mattina ormai era completamente finita, sembrerebbe completamente finita. Diciamo che questa pioggia, a parte il fatto che comunque sembra che siamo stati sfortunati perché ci sono arrivate notizie che invece vicino a Pordenone il maltempo ha fatto un sacco di danni, ma danni importanti con una specie di tornado, non è un tornado perché comunque viene chiamato in un altro modo perché praticamente c'è stato venti fortissimi a 120-130 km e tanta grandine e qui per fortuna ce ne siamo risparmiati, ma comunque la pioggia che è arrivata questa mattina non ha risolto il problema perché vedete questa è una ripresa adesso di uno dei campi di Calino e la pioggia che è arrivata praticamente non ha risolto nulla. Si spera che arrivi l'acqua dal Trentino con l'Adige altrimenti...